Leonardo Silva Revisore Mi sono cacciato nei guai nel accettare di parlare del what's next, del futuro della formazione qui a Cortina, per tre motivi. Uno, perché arrivo dopo questo magnifico intervento di Affinati. Due, perché l'innovazione nell'educazione e nella formazione è un tema molto frequentato nel circuito di TED. Sono sicuro che da qua a due minuti comincerete a fare il confronto tra la mia speech e quella famosissima di Ken Robinson con i suoi 50 milioni di visualizzazioni, però non so che dirvi, farò del mio meglio. Il terzo motivo è che il dibattito sulla formazione e la sua innovazione è incomprensibile, si dice tutto e il contrario di tutto. C'è chi sostiene che nell'economia della conoscenza, quella in cui viviamo, quella dei servizi, quella dei lavori ad alta intensità di creatività, quella dell'innovazione. Studiare sì è importante, lo sia sempre di più, ma che vada fatto in modi radicalmente diversi rispetto a quanto abbiamo saputo fare nel sistema educativo tradizionale. Bisogna, si dice, non più concentrarsi sulla trasmissione di conoscenze e nozioni, ma dare ai nostri giovani e ai nostri ragazzi le competenze del ventunesimo secolo, risoluzione dei problemi, capacità di lavorare in gruppo, addomesticarli quasi alle dinamiche che troveranno nel mondo del lavoro appena finiranno i propri studi. D'altronde i saperi, i fondamentali della matematica, della fisica, delle lettere e della storia, li possiamo trovare gratuitamente su internet, in enormi portali pieni di video lezioni. Dall'altra parte ci sono i pessimisti, quelli che sostengono che studiare non serva più di tanto e che studiare troppo sia addirittura inutile. Alcuni numeri sembrano dare loro ragione, vi cito alcune cifre giusto per darvi la dimensione. Nell'economia americana si calcola che solo il 20% dei nuovi posti di lavoro creati richiedono una laurea. La gran parte dei nuovi posti di lavoro che vengono creati richiedono un diploma di scuola media superiore e addirittura titoli di livello più basso. C'è un'altra statistica che mi colpisce tantissimo, che dice che per ogni posto di lavoro da programmatore, da sviluppatore che viene creato, ne vengono creati altri tre per individui che vadano a far saltare gli hamburger da McDonald's. David Graeber, un importante antropologo inglese, ha fatto un'analisi impietosa del mercato del lavoro di oggi e ha visto che ci sono milioni di individui molto preparati che svolgono mansioni ripetitive, lavori sostanzialmente privi di senso e inutili e sono consapevoli del fatto che il loro mestiere non dà alcun contributo all'umanità. Lui li chiama con un'etichetta piuttosto, come dire, efficace, bullshit jobs, lavori di merda. Ora, in questo dibattito, io come persona che nell'educazione, nella formazione, ci lavora quotidianamente, mi sento in difficoltà. Ci sono centinaia di voci, più o meno autorevoli, che dicono che quello che faccio non serve, andrebbe fatto in modo radicalmente diverso, che i luoghi in cui lo faccio andrebbero rasi al suolo e reinventati. Però vi dico anche che negli ultimi anni, come dire, avendo fede nella mia azione, ho riflettuto molto su che cosa significa fare didattica, su che cosa significa insegnare. Ho praticato il nuovo e l'ho mescolato con quello di buono che c'è, ed è tanto, ve lo garantisco, del vecchio. Mi sono soprattutto confrontato con decine, centinaia di colleghi nella mia università, in altre università, e in istituti scolastici di diverso ordine e grado. E vi dirò una cosa, la formazione del futuro è già qui, anzi, la formazione che prepara i giovani al nostro futuro è qui e ora, e la stiamo praticando in tanti. Ve la racconto prendendo spunto da un'esperienza personale e tuttavia distillando anche quello che ho imparato, parlando con queste persone e questi miei colleghi che ho incontrato durante questo percorso. La mia esperienza personale è quella di aver costruito e coordinato un laboratorio all'Università Ca' Foscari che si chiama Active Learning Lab. Noi prendiamo degli studenti che arrivano da tutte le nostre diverse lauree, discipline umanistiche, scientifiche, economiche, li mettiamo insieme e li mettiamo di fronte a delle aziende, enti pubblici o anche manifestazioni della società civile che chiedono loro di affrontare delle sfide molto ambiziose, molto lungimiranti. In sei settimane questi studenti sono chiamati a mobilitare le conoscenze che hanno acquisito nei loro percorsi di studio e a creare delle soluzioni innovative. Ecco, a partire da questa sperimentazione, ma ve lo ripeto, sono davvero tante, e non solo coordinate da me, chiaramente, mi sento di distillare al ritratto della formazione non del futuro, ma della formazione che qui e ora prepara i nostri giovani al futuro. Questo ritratto lo farò utilizzando tre obiezioni, tre contrapposizioni che ricorrono molto spesso nel dibattito sull'educazione e sulla formazione. La prima è la pericolosissima, a mio avviso, contrapposizione tra conoscenza e nozioni, da una parte, e competenze, dall'altra. L'idea è che la scuola debba rinunciare al conservare e trasmettere alle nuove generazioni i saperi che abbiamo accumulato in decenni e secoli di ricerca, di riflessione umanistica per insegnare la creatività, il problem solving, la trovo pericolosa per due motivi. Il primo, io sono un volatore nervoso, un nervous flyer, e ogni volta che sono su un aereo a dieci chilometri d'altezza non c'è creatività che regga. Io spero vivamente che chi ha progettato quell'aereo fosse ossessivamente padrone delle leggi della fisica, delle leggi del volo e delle leggi che governano le perturbazioni. La creatività, senza il possesso dei fondamentali, delle nozioni, le chiameremmo, rischia di essere uno sfoggio inutile. È possibile sì arrivare a delle soluzioni esercitando la creatività, salvo poi scoprire che qualcuno c'era arrivato prima di noi. La scuola, poi non può, la scuola e il sistema educativo non possono più rinunciare, oggi sono di fronte a una sfida gigantesca, non possono più rinunciare a trasmettere i saperi che abbiamo accumulato nel tempo, perché noi tutti insieme respiriamo, condividiamo l'ossigeno di questa terra con milioni di individui che oggi, nel 2017, credono a complotti di ogni tipo, pensano ancora che la terra sia piatta, hanno creduto al metodo stamina e non hanno la più palida differenza, la più palida idea della differenza che intercorre tra coincidenza e causalità. Non ce lo possiamo più permettere. Certo, insegnare le nozioni, i saperi, va adeguato ai tempi. Certo, è importante raccordarli con la realtà, anche perché i nostri giovani imparino quali sono le condizioni di validità dei saperi. Non ci sono grandi rivoluzioni da fare, non serve gettare il cuore oltre l'ostacolo, è facile, ve lo dico da qui. Questo signore qui si chiama Kevin Parker, insegna a Harvard, lui è nato nel South Carolina e lì hanno un'ossessione, il barbecue, per loro una religione. Lui insegna i fondamenti della fisica e della chimica a Harvard chiedendo ai propri studenti di progettare il barbecue in grado di cucinare la bistecca perfetta, perfetta in termini di doratura, superficiale, morbidezza, gusto e sapore. Lo fanno, progettano dei barbecue mentre imparano come funziona la cottura. Anche nei nostri laboratori a Ca' Foscari succedono cose analoghe. Ai nostri studenti è stato chiesto di ricavare qualche cosa di nuovo da degli scarti di lavorazione del caffè. Hanno sorpreso le imprese tirando fuori delle palline in grado di separare per esempio materiali oleosi e acqua per decontaminare dei siti. Hanno creato sempre dagli scarti del caffè una polverina esplosiva. Non l'abbiamo provata in aula, volevo evitare i titoli dei giornali finotto fa esplodere Ca' Foscari, però validata fuori funzionava. Quindi si tratta di trovare un equilibrio tra il sapere e l'accompagnare al saper fare. La seconda contrapposizione è quella tra il fisico e il digitale, tra l'individuale e il sociale. L'idea che noi possiamo imparare qualsiasi cosa gratuitamente e democraticamente tirando giù dei video da internet è affascinante ma pericolosa. La ricerca pedagogica negli ultimi 30 anni ha dimostrato chiaramente che si impara e si crea nuova conoscenza condividendo luoghi fisici, creando relazioni anche emotivamente molto impegnative, essendo sicuri dei propri saperi ma essendo disposti a farsi sorprendere e a imparare tramite i saperi degli altri. La sfida quindi che abbiamo e noi per esempio a Ca' Foscari mettendo insieme studenti, ricercatori, imprenditori, esperti e tecnici in questi laboratori è quella di andare oltre la scuola e l'università come sistemi chiusi in delle classi e creare delle comunità che innovano e apprendono insieme, ciascuno sicuro dei suoi saperi ma ciascuno disposto a imparare dagli altri. L'ultima opposizione su cui mi volevo soffermare che è la più importante guardate bene è quella che c'è tra autonomia e docilità. Lo confesso anche se io sono un professore di economia lo confesso che ogni volta che sento dire che la scuola e l'università dovrebbero preparare al lavoro mi impaurisco. Sento troppo spesso dire che dovremmo far imparare ai nostri studenti i mestieri che servono alle imprese oggi. sento meno spesso dire che il nostro compito è quello di formare dei giovani preparati affamati in grado di prendere organizzazioni amministrazioni pubbliche la società nel suo complesso e rivoltare tutto come un calzino per prepararlo al futuro. Eppure pensateci io li vedo i ragazzi quando sono in aula sono sottoposti a centinaia di stimoli mescolano ciò che sanno con ciò che apprendono e che arriva da mondi diversi dalla ricerca che viene fatta negli Stati Uniti in Cina in India e altrove. Sono in altre parole il ponte più efficace tra l'oggi e il domani però la differenza la facciamo noi noi educatori e noi come società. Quali sono le nostre aspettative? Ci aspettiamo che occupino un posticino in un gioco già definito o ci aspettiamo o vogliamo dare loro il margine per costruirlo il loro futuro? Ora con queste tre contraposizioni in modo molto veloce vi ho dato i tre elementi che mi consentono di creare il ritratto di quella che credo sia l'educazione che prepara il futuro e che esiste qui e ora creare un equilibrio tra il sapere e l'accompagnare al saper fare creare delle comunità che imparano insieme andando oltre la scuola e il sistema educativo come sistema chiuso avere anche l'umiltà di insegnare ai nostri giovani l'ardire e di pensare che il mondo non è dato che il loro futuro non è dato ma che lo possono costruire ora io non vi so dire se per trovare lavoro e soprattutto per essere felici nel prossimo futuro i nostri giovani debbano studiare la matematica la fisica le lettere il coding o qualsiasi altra cosa vada di moda però come non lo so io fidatevi non lo sanno in tanti il futuro come sempre è indecifrabile e illegibile quando si parla di educazione invece a me piace sempre ritornare a una poesia che amo tantissimo scritta da una figura che ammiro tantissimo Danilo Dolci secondo cui l'educazione e il far crescere le persone è una questione di sogno abbiamo la responsabilità di far crescere i nostri giovani sognandoli come li dobbiamo sognare la nostra responsabilità è quella di vederli nel loro futuro in prima battuta come individui e cittadini competenti responsabili non tecnici docili in seconda battuta dobbiamo sognarli come individui appassionati che mettono al lavoro i propri saperi e che insieme rinnovano il mondo in cui vivono in cui lavorano in cui si amano e stanno insieme ad altre persone in terza istanza dobbiamo sognarli come individui che davvero il mondo lo vogliono scomporre e ricomporre come pare e piace a loro o comunque come ritengono sarà giusto piuttosto che vederli sgomitare tra di loro per occupare una casella in una scacchiera che abbiamo già rigidamente definito ecco questa scuola questa università non del futuro ma che prepara i giovani al futuro è qui e l'invito è quella di andarla visitare e vedere perché capirete e vedrete che le sperimentazioni di questo tipo sono tantissime vi ringrazio grazie grazie